Il pittore Tamburi è un orfeo che per le strade di Roma cerca il segreto della propria ispirazione. Lei, signore, non era certo uscito con l'idea di visitare una mostra d'arte. Sono le mostre d'arte talvolta a venire sulla nostra strada. Questo ragazzo, tentando dignitosamente di risolvere la crisi della pagnotta, ha risolto insieme quella della tela. Le vie della città gli offrono chilometrici e gratuiti telai e cartoni per farne una pinacoteca stradale. Strade e tappe di un viaggio fantasioso e colorito sono invece gli acquerelli di Aldo Raimondi. Una specie di sana, semplice villeggiatura ci è proposta dai soggetti stessi del pittore, con profumo di viottori e di aie. Ma Raimondi ama esplorare anche il più difficile paesaggio espresso dalle fisionomie umane. Mutare in una gioia o comunque in uno spettacolo per l'occhio la propria cecità è il commovente prodigio dello scultore francese Tourneau. La guerra alla privato della vista e del braccio destro. In una gara della volontà contro il destino, egli si è dedicato all'arte che più specificamente richiede i poteri di cui è privo. La mano esplora con delicatezza, con veggenza di pupilla, quei tratti che Tourneau plasmerà per i nostri occhi, mai più per i suoi. Grazie.